Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa dodicesima lezione di tutorial sulla programmazione in linguaggio C e C++ semplificata per non informatici. Vi ricordo che come prerequisito bisogna conoscere e sapersi destreggiare in quelli che sono i diagrammi di flusso. Se questo implica che dobbiate ripassare qualcosa, trovate la playlist dei tutorial anche sui diagrammi di flusso che comunque vado sempre a riprendere e a fare nello svolgimento degli esercizi. Quindi vedrete che la forma semplificata della spiegazione della programmazione sarà partire da un esercizio, diagramma di flusso, andare a fare in linguaggio C e in linguaggio C++ andando man mano, dopo che abbiamo dato le basi sulle prime sintassi base, andare a perfezionare o vedere alcuni piccoli accorgimenti qua e là o comunque magari inserire poi anche il discorso di sintassi nuove e strutture nuove. Ci stiamo occupando ancora per quanto riguarda la struttura ciclica al ciclo FOR e qua lo vediamo applicato con un FOR diciamo esterno dove all'interno comunque troviamo degli IF-ELS quindi un pochino più strutturato ma niente di particolare se avete seguito le lezioni precedenti diciamo che ci arriviamo veramente per piccoli step. In questo esercizio dobbiamo scrivere un programma che preveda l'inserimento di 5 numeri e calcoli quanti di questi sono maggiori di 4 e quanti minori di 10. Ora, io qua ho messo numeri, poi si possono fare mille modifiche degli esercizi come potete immaginare. Quello che interessa è che cosa quando voi avete un esercizio è leggerlo un paio di volte e poi dire bene che cosa posso fare per cercare di ottimizzare le cose. Allora intanto vado a vedere che io devo acquisire quindi l'inserimento di 5 numeri devo acquisire 5 numeri. Ovviamente devo cercare di ottimizzare le variabili non ho bisogno di 5 variabili per inserire 5 numeri. Perché? Perché una volta che io ho fatto la richiesta, l'inserimento e ho analizzato cosa succede con quel numero lì poi me lo posso dimenticare. Quindi quando io so il numero a priori delle volte in cui devo fare qualcosa quindi in questo caso chiedere da un numero e quindi leggere questo numero so a priori il numero delle volte io posso utilizzare il ciclo for. Farò un ciclo for utilizzando poi ovviamente la variabile i che va da 0 a i minore di 5 perché ricordiamo sempre che se devo farlo 5 volte il primo ciclo sarà lo 0, il secondo l'1 cioè quindi sarà sempre partendo da 0, 1, 2, 3, 4. Quindi il quarto e quindi se io vado a mettere i minore di 5 lo farà le 5 volte da 0 a 4. Il valore di i sarà da 0 a 4. Ora, cosa dobbiamo fare poi? Quindi la prima cosa è dire ok, da qualche parte io sicuramente posso usare il ciclo for. Bene, poi intanto vediamo quante variabili mi servo. Mi serve la variabile intera i per il ciclo for e poi che cosa mi serve stampare? Mi serve stampare. Intanto mi serve acquisire il numero quindi lo chiamerò numero num come l'ho chiamato io e quindi anche quello mi serve. Dopodiché io devo stampare quanti dei numeri che ho inserito sono maggiori di 4 e quindi avrò una variabile maggiori e quanti invece minore in quanti invece, non necessariamente invece dobbiamo poi anche analizzare queste quanti, minori di 10. Ok, quindi ho già battezzato le mie variabili che vedete qua, quindi i, num, maggiori e minori. Ora, i è la variabile di conteggio e quella nel ciclo for viene inizializzata a 0, poi viene aumentata, incrementata di 1 per volta. La variabile num è una variabile che io acquisisco da tastiera, quindi nessun problema, acquisisco in num e ci finisce per forza un numero. Ciò che invece dobbiamo fare attenzione sono le variabili maggiori e minori. Perché? Perché sono le classiche variabili di accumulo, quindi cioè un qualche cosa che contiene che io man mano vado ad incrementare. Ma devo dirgli che all'inizio queste sono vuote, quindi devo andare a inizializzare queste variabili. Quindi posso farlo separatamente e le prime volte consiglio sempre di farlo in una riga separata, quindi maggiore uguale a 0, minore uguale a 0, ma posso anche farlo nella riga della dichiarazione. Quindi dichiaro int maggiori e lo pongo direttamente uguale a 0, così come minori. Abbiamo visto il perché è importante il discorso dell'inizializzazione. Si vede bene in questa struttura di riga qua, dove abbiamo maggiori uguali, maggiori più 1, perché è l'incremento che io faccio. Quindi vado a dare al nuovo valore di questa variabile maggiore, il suo valore vecchio, più aumentato di 1, perché ho comunque dovuto incrementare qualcosa. Ma allora andiamo a vedere meglio ancora un attimo il discorso dell'esercizio. Quindi abbiamo detto ho il numero a priori di cicli che devo fare, bene, so che devo usare il ciclo 4. Dopodiché dico, ok, devo vedere quanti sono maggiori di 4 e minori di 10. Allora, intanto focalizzo sulla retta dei numeri, i due numeri, ok? Avrò 4 a sinistra e 10 a destra. Bene, se sono maggiori di 4, possono essere o minori di 10, quindi nell'intervallo tra 4 e 10, o maggiori di 10, oppure minori di 4. Allora, cosa vado a fare? Mi interessa andare a analizzare tutte e tre gli intervalli? Sì, però posso, diciamo, evitarmi, come posso dire, evitare di controllare 1. In che senso? Se io inserisco un numero, o è compreso nell'intervallo tra 4 e 10, o è minore di 4. Se non è né uno né l'altro, sicuramente sarà maggiore di 10, quindi in realtà mi basta fare due controlli, perché l'altro viene fuori da 1. Se non è né di qua né di là, sarà d'altra parte, in poche parole, ecco. Quindi questo è un po' il meccanismo in cui bisogna iniziare a ragionare. Quindi cercare di fare mente locale e dire ok, per logica, e quindi devo cercare di... Se no, poi aumentano i controlli che sono inutili. Ok, cominciamo ad andare a vedere come è fatto il diagramma di flusso. Allora, nel diagramma di flusso ho le mie inizializzazioni e dopodiché inizia il mio ciclo for. Allora, inizia con l'inizializzazione di i uguale a 0, dopodiché sappiamo che va a controllare se all'inizio i uguale a 0, quindi 0 è minore di 5, certo sì. Quindi inserisci il numero, leggi il numero, dopodiché faccio il controllo. È compreso tra 4 e 10, escludendo il 4 e il 10? Sì. Allora, se è compreso, vuol dire che maggiori da 0, che avevamo inizializzato qua, passerà a 0 più 1 a 1. Quindi avrò, se il primo numero è compreso qua e mezzo, allora avrò che sicuramente è maggiore di 4, quindi maggiore diventerà 1 e minore, stessa cosa, da 0 passerà a 1. Quindi vuol dire che ho un numero che è sia maggiore di 4 che minore di 10 e questo saranno le... la variabile aumenterà l'accumulo. Se invece è falso, quindi non si trova in questo intervallo, che cosa potrà essere? Ad esempio, faccio il controllo... ah, mi è sfuggito questo... questa piccola... devo andare qua... sì, l'ho spostato, vabbè, la freccina deve andare qua. E me sono accorta adesso. Se non è in mezzo all'intervallo, ha il controllo, ad esempio, che sia minore o uguale di 4. Se minore o uguale di 4, bene. Se è vero, cioè se è minore o uguale di 4, sarà anche ovviamente minore di 10 e quindi aumenterò minori. Quindi minori sarà uguale al suo valore vecchio. In questo caso, se era il primo, sarà 0 più 1, diventerà 1. Se invece non è minore o uguale di 4, avevo già controllato che non era tra 4 e 10, quindi sicuramente sarà maggiore o uguale a 10. Inutile che lo vada a controllare, perché appunto deve stare per forza lì. Quindi in questo caso, se è maggiore o uguale a 10, sarà sicuramente maggiore di 4 e quindi aumenterò maggiori. Dopodiché vado ad incrementare il valore della i. quindi del ciclo, tornerò su e dirò ok. Bene, ho incrementato, prima valeva 0, adesso vale 1. 1 è minore di 5? Sì. Rifaccio tutte le combinazioni scegliendo il percorso in quel caso che serve. Dopodiché, quando arrivo ad avere 4, 4 più 1 è uguale a 5, quindi salvo di nuovo su, i è minore di 5, no, falso, quindi esco dal ciclo e vado a fare la mia stampa maggiori e stampa minori. Ok, vediamo come diventa questo nel programma, anzi lo vediamo però così lo vediamo anche che gira. Allora, prima di vedere il discorso, ops, è scappato, che gira il programma, andiamo a vedere un attimino qualche piccola, qualche piccolo aggiustamento ma a livello più che altro visivo, diciamo più coreografico, ma non è molto bello dire coreografico, però in effetti rimane più ordinato e anche più bello da vedersi. Allora, qua abbiamo, vabbè, niente di particolare il ciclo for, però ad esempio il primo, il primo output, printf, invece di mettere inserisci il numero, ovviamente ogni volta che fa il ciclo, mi dice, inserisci il numero, inserisci il numero, boh, non so, diciamo, dove sono arrivata. Se io vado a mettere il percentuale di, che ricordo è quello che mi va a riservare quel posto lì, per la variabile che viene inserita qua, poi ci metto anche lo zero alto, il numerino, qua, e qua devo mettere i più uno, perché all'inizio i vale zero e quindi sennò mi chiederebbe, inserisci il zerissimo numero, che non è lo zero numero. Invece se io metto i più uno, mi chiede, inserisci il primo numero, vedete com'è poi quello che viene fuori. Fate un po' delle prove, perché poi anche così si impara. Quindi così rimane anche più ordinato, e dico, ok, sono al primo, sono al secondo, devo farne cinque. Serve anche per imparare ad utilizzare il ciclo for, perché tutto quello che risulta più visibile, più visibile a monitor, ci fa capire anche dove siamo rimasti, o se c'è qualcosa che non va e abbiamo una stampa, ce ne rendiamo meglio conto. Quindi in questo caso, se io vado appunto a scrivere, inserisci il primo numero, in questo modo mi farà, appunto cambierà solo il percentuale di, mi cambierà in uno, due, tre, quattro, cinque, perché ho messo i più uno. Poi questo numerino in alto mi dice primo, secondo, terzo, quarto, quinto, e rimane, insomma, più bello da vedersi, anche più funzionale per fare comunque appunto un'analisi del programma. Poi abbiamo lo scanf, quindi andiamo a acquisire da tastiera il nostro numero, ricordiamo percentuale di perché è un intero, e poi la e-commerciale num, ricordiamocelo perché vuol dire che vado a mettere quello che ho digitato da tastiera all'indirizzo della variabile num, quindi in num ci va a finire quello che ho digitato da tastiera. Se la tastiera ha digitato cinque, in num andrà a finirci il cinque. Dopodiché faccio il controllo, abbiamo detto la prima cosa, come ho fatto nel diagramma di flusso, vado a controllare se è nell'intervallo. Se è nell'intervallo, come faccio a controllare che ci siano due condizioni verificate contemporaneamente, quindi entrambe vere, lo faccio con la doppia e-commerciale, quindi quella che, diciamo, in sintassi logica è l'end, l'end logico che mi dice allora è vera quando è vera una ed è vera l'altra. Bene, se questa è vera, quindi se è verificato e sono nell'intervallo interno tra 4 e 10, abbiamo detto vado a aumentare di 1 maggiori, quindi vado ad incrementare maggiori, la prima volta sarà 0 più 1, ricordo sempre l'uguale e l'assegnazione, quindi vuol dire che quello che c'è a destra va nella variabile a sinistra, quindi in questo caso vuol dire che questo maggiori qua sarà il valore vecchio, la prima volta sarà 0 più 1, 1, quindi 1 andrà nella nuova, nel nuovo valore di maggiori, quindi il valore nuovo di maggiori sarà, dico sempre, per ricordarvi come funziona una variabile d'accumulo, voi pensate di avere una cesta che avete detto all'inizio che è vuota e man mano, la cesta è sempre lei, però ci aggiungo una cosa, ci aggiungo una cosa, quindi la prima volta avrò la cesta 0, poi avrò una cesta che avrò un elemento, la seconda volta un altro elemento. E così minori, bene, poi andiamo a vedere else, quindi se non è nell'intervallo vado a controllare che sia ad esempio minore o uguale di 4, se è minore o uguale di 4 avrò che è sicuramente minore di 10 e quindi incrementerò minori, altrimenti, abbiamo detto, se non è nell'intervallo compreso e neanche minore o uguale di 4, sicuramente sarà maggiore o uguale di 10, quindi andrò ad aumentare maggiori, perché se è maggiore di 10 sarà sicuramente maggiore anche di 4. Dopodiché, anche questo, farò la stampa, sono stati inseriti percentuale di, in modo che poi il valore di maggiori vi vada qua, numeri maggiori di 4 e numeri minori di 10. Bene, vediamolo facendolo girare. Allora, ad esempio, inseriamo, che so, meno 1, meno 2, meno 3, scusate, uno se è perso, ah, mi ho digitato troppo veloce, allora, meno 1, meno 2, meno 3, 0 e 1. Sono stati inseriti 0 numeri maggiore di 4 e 5 numeri minore di 10. Poi, invece, mettiamo, ad esempio, 5, 6, 7, 8, 9. Sono stati inseriti 5 numeri maggiore di 4 e minori di 10, quindi sono sia maggiore di 4 che minori di 10 nell'intervallo. Poi, vado a mettere, invece, 11, 12, 13, 14, ah, no, ho messo un 3, vabbè, pazienza, 15, va bene, così. Sono stati inseriti 4 numeri maggiori di 4, perché ho il 3 che è minore, e un numero minore di 10. Ok? Ho solo il 3 che è minore di 10. Quindi, vedete che il tutto torna. Ok, ora andiamo ad analizzare lo stesso programma, invece, in C++ con qualche piccolo aggiustamento. Allora, andiamo a vedere il listato di quello che è, invece, il programma in C++. Allora, qua la... andiamo ad avere la... vabbè, la libreria di lettura e scrittura che è la Ustream e lo using namespace std che ci permette di scrivere la sintassi cout e cin in forma semplificata. Ora, non cambia granché, vedete la struttura del programma è molto simile. Qualche piccola accortezza. Anche qua ho lasciato comunque l'inizializzazione di maggiore e minore, anche se si possono mettere nella dichiarazione delle variabili. Quello che, invece, magari si può scrivere si può scrivere anche in C come in C normale, però è un po' più carino andare a scrivere l'incremento, la parte incrementale della I, invece di scrivere I uguale a I più 1 come I più più. È un po' più evoluto, tra virgolette. Qua non cambia nulla, se non che la struttura del cout che abbiamo già visto, quindi dobbiamo mettere per forza, perché non è un incremento, dobbiamo dire che qua andiamo a visualizzare I più 1, quindi dobbiamo lasciarlo così, e ci viene la stessa riga che ci veniva prima. L'istruzione C, il controllo, esattamente come abbiamo visto prima, ecco, una cosa che si può scrivere sia come ho scritto qua, che è uguale al linguaggio C, ma che in C++ si utilizza, vedete voi cos'è che vi, una volta che avete capito bene come funzionano le variabili di accumulo, potete, quando volete incrementare di 1 una variabile, potete utilizzare questo, quindi maggiori più più vuol dire esattamente la stessa cosa di maggiore uguale, maggiore più 1, se si identica cosa, potete farlo solo però in C++. stessa cosa anche qua, quindi vado a sostituirla anche qua sotto, ve l'ho fatto vedere perché in realtà si può fare sia in un modo che nell'altro, ora per, giusto per differenziarlo un po', e vedere che cosa ci permette di fare un po' più semplice, andiamo a scriverlo in questo modo, per il resto cambia poco, nel senso, però vedete che è già un po' più snella come scrittura, e allora, aspettate che faccio di nuovo girare, inserisce il primo numero, anche qua andiamo a fare, ad esempio, che ne so, 5, 6, poi di nuovo 5, poi 5, poi un altro 8, abbiamo inserito 5 numeri maggiori di 4, perché in effetti sono tutte, e 5 numeri minori di 10, quindi l'intervallo, poi invece andiamo a fare 0, 1, 2, 3, e 0 di nuovo, abbiamo inserito 0 numeri maggiore di 4, e sono tutti e 5 minori di 10, poi andiamo a inserire invece numeri più grandi, 20, 30, 40, 50, 60, 5 numeri maggiori di 4, 0 numeri minori di 10, quindi vedete, stessa identica cosa, e qua, devo allungarlo un pochino, perché, per fare, ecco, in modo che rimanga, anche questo, sulla stessa riga, per copiarlo, dall'altra parte, bene, quindi qua siamo arrivati alla pagina iniziale, a parte un pochettino di riga qua che viene tagliata, giusto per avere il confronto tra i due tipi di programmi, ma vedete che cambia poco, anche perché appunto poi anche in C++ in realtà si possono poi utilizzare molti comandi del C, quindi sono veramente pochi, poi per quello che vediamo noi è veramente molto minima la differenza, dico sempre, la cosa più importante sulla quale andare a focalizzarsi sono poi le istruzioni di input-output, quindi il C in e C out che effettivamente sono molto più semplici in C++, per il resto le strutture cambia molto poco, però vedete che anche la forma dell'accumulo è comunque semplificata, il ciclo for con il più più, una volta che uno capisce il discorso di che cosa succede, poi magari c'è qualcuno che si confonde meno a vedere una cosa del genere, dice ok, più più vuol dire che vada ad incrementarla rispetto a vederla in questo modo, però vederla in modo come qui a sinistra, nel senso con la variabile uguale alla variabile più 1, è molto importante per capire il discorso dell'accumulo, e per capire che ciò che è a destra finisce a sinistra dell'uguale. Bene, spero sia tutto chiaro, fatemelo sapere nei commenti, ci vediamo alla prossima lezione e al prossimo video. Ciao ciao!